Aspetta aspetta devo dirti una cosa il 5 maggio facciamo un webinar sì ho deciso questa cosa perché da ieri sto parlando con un mio corsista relativamente alle strategie di ingresso e siccome sto parlando con lui di tutti i punti da sviluppare per creare una strategia di trading profittevole partendo da zero ho deciso di fare un webinar e facciamo una lezione insieme perché secondo me è un argomento importantissimo 5 maggio troverai i link in descrizione di questo video per iscriverti sono solo 100 posti quindi datti una mossa in pratica perché finiranno in pochissime ore sono solo 100 posti 5 maggio alle ore 18 facciamo il webinar come costruire una strategia di ingresso una strategia di trading online partendo dalle basi una strategia di ingresso partendo dalle basi registrati adesso ho finito ho detto questa cosa questo spottore parte la sigla non ce l'ho la sigla io perché non ho la sigla io? ho 10.000 iscritti bene saluto a tutti bentornati in questo nuovo video 10.000 iscritti al canale Trading Onno e io vi ringrazio con un webinar domani per fare quello che mi piace più di tutti insegnare quello che so ragazzi quelle che sono le mie basi del trading le mie basi di formazione domani partiamo da zero perché questo webinar lo voglio regalare a tutte le persone che stanno iniziando oggi a fare trading online a capire come si investe e iniziamo a creare una strategia di trading partendo da zero come strategia di ingresso vi insegno i modelli ragazzi io insegno sempre un modello non do mai il pesce già pescato quindi da me imparerete sempre e solo a come si crea come si crea una strategia non una strategia già preconfigurata che dovete seguire così come i muri io non faccio questo ragazzi non serve a imparare le cose così dovete essere sempre indipendenti quindi ricordatevelo sempre quando applicate il vostro tempo o una formazione a qualcosa che sia utile quindi 10.000 iscritti volevo ringraziarvi con questa cosa tirate su un pollice se vi piace questa mia idea ragazzi e scrivetemi nei commenti se volete un altro regalo non mi parlate di coupon o cose io non sono Buffett ha perso 55 miliardi vabbè ragazzi allora a parte la battuta sul nostro nonno più famoso del mondo investitore Warren Buffett ha fatto ieri una bellissima diciamo riunione con una sala vuota ragazzi erano tutti in casa insomma in working home working però ha detto le cose importanti però ragazzi senza ripetere diciamo le parole che non ha senso fare la telecronaca quello che mi interessava invece è fare prendere spunto su alcune cose cose che ritengo utili da dare a voi per quanto riguarda il pensiero generale di Warren Buffett lo ha confermato di nuovo in questo meeting che è appena finito e su questa cosa farò un video in settimana ragazzi quindi iscrivetevi se non volete perdere tutti questi aggiornamenti oggi invece restiamo sul nostro con quello che riguarda i video dell'analisi tecnica perché bitcoin sta andando a fare il famoso movimento di bassista del 4-5 maggio di cui vi avevo parlato qualche giorno fa penso la scorsa settimana la possibilità che la fase di bitcoin di metà ciclo sensile si facesse sentire così sembra essere stato il ciclo è un po' nascosto relativamente a bitcoin ragazzi perché ha fatto questo super pump adesso sta ritracciando non si capisce ancora se c'è l'annuale mi rendo conto che c'è un po' di confusione a tal proposito cercherò insomma di chiarirle nei prossimi video quando anche il mercato ci darà qualche informazione ricordatevi che l'analisi ciclica non prevede mica il futuro ragazzi noi abbiamo un'idea generale poi facciamo le nostre conclusioni oggi andiamo a rivedere l'analisi ciclica su bitcoin e gli altri indici prendiamo anche l'S&P 500 che in questo momento è molto delicato in questa fase alla fine del video vedremo anche la borsa mondiale e poi ragazzi vi svelo anche un'altra cosa e stra per arrivare l'halving quindi ho deciso di fare una serie di video in questa settimana dedicate tutti all'halving quello che insomma sono le informazioni scottanti quindi tutti gli indicatori e tutti i grafici alla fine avrò anche un grafico ragazzi che è meraviglioso da farvi vedere e lo vedremo in settimana quindi ragazzi pollicione e iscrivetevi al canale spostiamoci sui grafici bene bitcoin davanti a me ragazzi mi ha togli occhiali come sempre allora fase ciclica che era iniziata in questo ciclo mensile che ci ha dato grandi soddisfazioni io stesso ho preso un super take profit con il mio trading system mid term uno dei migliori trading system che abbia fatto ragazzi nella mia vita devo essere sincero e ho preso un super take a 9004 ragazzi è tutto pubblicato nella mia academy quindi non vi nascondo la grande soddisfazione ma non vi pensate che queste cose siano all'ordine del giorno che non è così capita ogni tanto anche a noi di uscire ai massimi ma a volte casuale sicuramente bravura ma non è sempre facile allora andiamo a vedere quello che ci dice il grafico di bitcoin in maniera molto semplice ragazzi stiamo chiudendo metà del ciclo mensile vero questo è un ciclo ternario ve lo faccio vedere in maniera molto semplice è un ciclo che è stato difficile in pratica ragazzi e sta facendo questa sua metà ciclica mi sta bene anche che sia abbastanza lungo il tempo in questione perché già oggi arriviamo intorno ai 18 giorni certo ragazzi siamo un po' lunghi però è anche vero che il mercato è salito quindi fino ad oggi riesco a stare diciamo in queste ipotesi di metà ciclo però ragazzi il mercato dovrà poi dare delle risposte qual è la soluzione a questo discorso per farla insomma molto facile bitcoin potrebbe scendere ancora sì in realtà sì ragazzi perché non sappiamo ancora se la fase di metà ciclo ha chiuso dove potrebbe arrivare potrebbe anche arrivare a testare questo livello di 8.300 ragazzi o il precedente minimo di questa candela che era 8.400 però anche il minimo di oggi in sostanza ragazzi è un minimo sufficiente per chiudere questa fase ciclica e riprenderne un'altra quindi in realtà il problema della close delle fasi cicliche ragazzi è questo quando chiude un ciclo ne inizia un altro quindi quando siamo nella fase finale il mercato può andare sia giù che su insomma qui dobbiamo avere un po' il polso sulle strategie di trading come entrare a tradare questa operazione cosa significa? significa che se il mercato inizia a fare dei segnali se avete una strategia che vi può portare a entrare sul mercato in questo momento ha senso farlo questo significa ed è una informazione che noi otteniamo dalla fase ciclica ragazzi resta comunque una fase che potrebbe ancora perdurare domani ragazzi però già insomma eccediamo con i miei tempi quindi non la vedo fattibile questa cosa io vedo più una fase di ripresa di bitcoin con insomma se non so se oggi massimo domani può fare ribasso ma poi dovrei cominciare la sua fase ciclica con un problema che è fondamentale ragazzi la prossima il prossimo ciclo deve andare a rompermi i massimi che ha fatto a 9500 se il mercato non fa questo attenzione campanello di allarme perché perché intanto c'è ancora il problema che non sappiamo se il ciclo annuale è iniziato qui o qui con tutta Wall Street in pratica con tutto il mondo perché anche loro hanno iniziato a marzo dalla fase di ribasso e dalla fase di ripresa sembrerebbe spostare le probabilità l'ultimo mio video la probabilità erano 60-40 adesso con questa boom questo app si spostano a 55-45 quindi quasi a metà strada ragazzi però la verità è che ancora non siamo andati sopra la resistenza a 10.500 e se non si ci arriva ragazzi purtroppo resta valida questa formazione di ciclo annuale già ribassista incominciato qui questo sarebbe solo un pezzo che poi diciamo continuerebbe la sua seconda parte quindi in pratica il mercato non ha lo so che ha fatto un super up ed è impossibile negarlo va trattato per chi come me fa trading ragazzi ovviamente siamo andati l'uomo abbiamo fatto anche profitto però poi per il lungo periodo il rischio resta sempre che resti questa fase ribassista quindi è fondamentale che il mercato vada a rompervi questo massimo e si avvicini il più possibile a questo livello di resistenza se invece non supera questa resistenza ragazzi restiamo sempre in questo limbo e non sappiamo è iniziato sto ciclo annuale può salire o non salire insomma ma di questo ne parleremo in settimana perché ne parleremo quando guarderemo anche tutti i video relativamente all'alving e a quello che potrà succedere in questa fase post-alving di bitcoin facciamo un accenno anche ad Ethereum per quanto riguarda la sua fase ciclica ragazzi perché su Ethereum vediamo ancora un po' in maniera più chiara un'altra cosa come è evidente il fatto che il massimo di febbraio sia veramente ancora molto lontano mancano 80 dollari su Ethereum ragazzi che non sono pochi perché sono intorno al 30-40% più o meno e insomma la criptovaluta è salita anche tantissimo quindi vedete ha fatto questo super balzo però ancora una volta ragazzi si vede in maniera evidente questo problema dell'incomprensione se siamo in un nuovo ciclo annuale o meno perché quello di Ethereum ma anche lui sembra dare questo tipo di andamento ragazzi e quindi è chiaro che è evidente anche a guardarlo bisogna stare attenti questo è quello che dico in questa fase ragazzi come sapete non è possibile prevedere il futuro si vedete che anche qui è iniziata questa fase di close di metà del ciclo mensile perché su Ethereum è più lungo di solito di Bitcoin e sembra insomma andare poi in close verso fine maggio quindi da qui in poi dovremmo assistere a un tentativo di rialzo domani dopodomani insomma ragazzi per cercare di rompere questo livello livello di 225 precedentemente era supporto io mi dimentico poi di cambiare i nomi ragazzi adesso è una resistenza avete visto come la resistenza 225 ha bloccato il rialzo deve andare sopra questo livello se vuole avere la possibilità di salire sopra qui che è 285 300 dollari per Ethereum che comunque ragazzi non è male le crypto sono tutt'altro che defunte con quello che hanno fatto hanno dimostrato grande grande forza rispetto ai mercati old quindi attenzione a sottovalutare questo mercato ragazzi andiamo a S&P 500 brutta settimana per quello che è stato fatto vi faccio vedere anche la candela ritorniamo poi subito perché ho i disegni lì però insomma vi faccio vedere questa candela guardate che brutta settimana questa è una candela bruttissima ragazzi di inversione di trend però insomma è vero che poi devono essere anche confermate qual è il problema ciclico di S&P 500 vi do il problema ciclico è un numero che dovete guardare ragazzi importantissimo qui è un po' più semplice capire quello che sta succedendo allora due sono le cose o il mercato ha chiuso il mensile lunghissimo qui potrebbe tranquillamente aver fatto una close di un ciclo mensile ternario costruito in questo modo e a questo punto da qui in poi potremmo assistere a un nuovo movimento poi si vedrà come e quando fermo restando che di solito S&P 500 intorno a 46 50 giorni fa una close di un ciclo maggiore ragazzi questo significa che dovremmo andare a fine maggio perciò attenzione perché può essere questa versione modificata quella rialzista oppure la vecchia quella che avevamo visto cioè con il ciclo mensile iniziato già nel 21 di aprile e si sposerebbe anche un po' con la logica di bitcoin delle cripto e qui sta dimostrando la sua debolezza a quel punto ragazzi se dovesse rompere i 2700 punti attenzione perché si rischia che si vada a giù in questa fascia di prezzo e magari poi ci resta un po' per ripartire dopo la chiusura di questa fase però ragazzi dimostra un po' di debolezza e visto quello che è successo sui mercati americani ricordatevi sempre che comunque c'è una recessione stratosferica ma ne parleremo in questi giorni un po' ragazzi ci andrei con i piedi di piomba a espormi troppo sul mercato soprattutto nel lungo periodo attenzione al lungo periodo in questo momento ragazzi credo di essere l'unico in tutto il web a dirvi attenzione sul lungo periodo in questo momento meglio il trading su sp500 meglio fare posizioni di trading e gestirle ragazzi come è giusto fare piuttosto che posizionarsi nel lungo poi magari da qui in poi non ci tornerà mai più ma speriamo ragazzi che sia così perché ne vale della nostra economia però in questa fase un buon analista ragazzi analizza il mercato e li vede questi rischi e quando c'è rischio non dovete esporvi al mercato Buffett ieri vi ha detto questo nel meeting ragazzi è liquido è liquido ragazzi per centinaia di miliardi di dollari attenzione ne parliamo comunque in settimana anche di questo per oggi è tutto vi ho fatto vedere quello che mi attendo una fase di ripresa da oggi massimo domani in poi per bitcoin vediamo se la fa e soprattutto con quale intensità perché sarà la nostra chiave di lettura dei cicli di mercato per le criptovalute e poi vi ho fatto vedere S&P con questo suo duplice visione e il famosissimo livello 2700 pericolosissimo per il mercato americano in questo momento andar giù di questo livello vediamo cosa succederà vi invito nuovamente a iscrivervi per il webinar che faremo il 5 maggio iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti grazie a tutti